Ehi, ciao! Anche tu hai una mente che non si ferma mai, che va, che va, che va, che ti imprigiona e ti fa sentire incapace di distaccare, di rilassarti, di avere un attimo di pace. Sei nel posto giusto. Io quello che posso fare per te è cercare di distrarti con degli stimoli visivi, uditivi, che dovrebbero ricreare in te il fenomeno modo come ASMR. Se questo è il primo video che guardi del genere, potrebbe sembrarti un po' bizzarro. Ma alla fine, dopo qualche minuto, potresti renderti conto che questo tono di voce, e i vari suoni accompagnatori creano in te una sensazione quasi da brivido. potrebbe essere piacevole o spiacevole. Alcune persone non riescono proprio a guardare i miei sensori, però spero che a te faccia piacere. Dicevo, cercherò di distrarti. con questi triggers, e aggiungerò un pizzico di nonsense, giusto per confondere questa nostra mente che, diciamo, ha bisogno di essere messa un po' al suo posto. Cosa ti ricorda questo suono? questo suono derivante da queste ampolle? Anche a me sì, precisamente il suono del cemento che viene fatto colare sull'asfalto. Quello che ti posso dire è che a volte rallenterò un pochino, farò un po' delle pause. Non preoccuparti. fa tutto parte del piano. dovresti essere al corrente. dovresti essere al corrente. dovresti essere al corrente. vedrà tornare cuorrente. un po' della situazione, nell' 예�內 e così. Un po' di più dovrebbe – avertelo – avertelo – comunicato. questa è un po' del genere x2 lo scorso natale mi sembri un pochino viola aspetta che cerco di verificare verificare lo stato dei tuoi liquidi interni ok questo te lo vado a mettere qui dove mi sembri un po' più violaceo ok questo te lo vado a mettere qua sopra dove sembri più tendente ad l'ocra questo te lo vado a mettere un pochino te lo vado a mettere un pochino da questo lato sei un po' troppo zebrato ok l'instante aveva detto di non usare la modalità zebra ok questo 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 ultimo ecco qua qui vedo una consistenza un po' troppo granulosa ok a posto adesso questi elettrodi andranno a valutare lo stato dei tuoi liquidi interni per verificare se effettivamente sei pronto per la spedizione ok mi raccomando non falsare i risultati so che so che hai la capacità di autoregolare le tue funzioni ma ti chiedo per favore non farlo che ok dunque dunque dovrò mettermi un guanto che tra l'altro è stato usato visto che è tutto stroppicciato stroppicciato sarà stato armando armando mi frega sempre d'altronde d'altronde si sa che i pappagalli sono furbi di natura se ti possono fregare lo fanno straneggiato magari questa cosa ti è la mente per la spedizione allora devo valutare la tua capacità di riconoscere i colori e le forme questo cosa ti sembra? precisamente un ventilatore di ultima generazione potrebbe indurre in errore ma è veramente potente mi puoi dire per favore quante strisce vedi? queste sono le strisce da cui poi esce da cui poi esce l'aria l'aria che ti accompagnerà durante la spedizione però fai attenzione perché se per caso dovessi invatterti dovessi invatterti in un campo in un campo di kiwi occhio ok? contiamo ok? sette ventuno 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 tantatré tantatré dodici ed ventuno fra questo centotredici quarantaquattro settanta duecentoventi mille trentatré settecentomila uno settantasette il mio numero fortunato bene direi che hai passato il test mi raccomando poi portatelo dietro il ventilatore perché farà parecchio freddo dove andrai tu quindi ti conviene portarlo allora ti devo purtroppo continuare a valutare prima cosa che ti viene in mente ok forse non avrei dovuto dirti dei kiwi ok poi potrebbe sì una specie di balena probabilmente dell'oceano atlantico sì esattamente esattamente bravo bravo 524 ok bene passiamo un attimo ai colori lucertura mandarino mocha 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 dai sforzati 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 saponetta devo dire che Winston aveva ragione su di te allora mi potresti indicare quale di questi numeri riconosci sì la tabella delle moltiplicazioni precisamente allora questo ok questo ok questo 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 ok questo giusto questo questo giusto questo perfetto questo ok questo ok questo ok eccellente eccellente penso che riusciremo a seminare interamente i campi quindi se non ti dispiace dovrò mi avvicino osservarti un attimino intanto gli elettrodi stanno ristabilendo ristabilendo i tuoi liquidi infatti vedo che c'è una maggior lucidità ma devo essere sicura che sia tutto a posto anche in questo senso qui ok allora tocco per vedere se la consistenza è quella giusta ok spugnoso devo dire qua vedo che hai deciso di incollare qualche conchiglia mi piace mi piace anzi anzi forse lo farò anch'io molto bene vediamo soltanto qua allora vedo che hai fatto un po' di esfoliazione con semi di sesamo già azzeccato vedi qualcosina ne so anch'io sai non quanto le zebre quelle sono imbattibili sì non hai non hai idea di quello che nascondono le zebre ok devo dire che sono soddisfatta soddisfatta fatto allora dovrò testare adesso la tua sensibilità visto che hai tutti questi strati vediamo se ecco riesci ancora a captare la differenza tra appuntito appuntito beh è questo che non è appuntito quando senti la parte appuntita dimmi un sogno della tua infanzia mentre quando senti questa non appuntita dimmi dimmi ciò che non vorresti mai più mangiare ok allora chiudi gli occhi avevamo lo stesso sogno giusto giusto comunque ok ok beh nulla ti impedisce di realizzarlo nulla anzi credo che la comunità dei bruchi ne sarebbe soltanto che felice wow che ambizione che avevi devo dire qualcosa a Winston non non pensavo ti facesse mangiare quello no sono soddisfatta direi facciamone ancora uno wow grandi sogni grandi sogni per un piccolo topolino ok allora adesso andrò a mettere di questa maschera e una volta che la metterò verrai immediatamente trasportato nel super spazio e poi nel libero spazio ok ok ce la puoi fare hai tutto quello che ti serve qualche mandorlatela sei presa ok allora sei a posto ricordati che bisogna seminare i campi ok ok allora eccoci qua solo solo qualche secondo che faccia effetto ricordati di di non fidarti delle zebre ma soprattutto soprattutto non fidarti mai e poi 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 mai dei pappagalli 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 ciao Armando fai buon viaggio grazie